Sei un amministratore di un comune che non ha ancora il Wi-Fi pubblico? Partecipa al Bando Europeo Wi-Fi for You. Registrati subito al sito ufficiale e dal 15 maggio 2018 alle ore 13 potrai partecipare all'iniziativa. L'obiettivo è finanziare il Wi-Fi gratuito negli spazi di aggregazione pubblica dei piccoli comuni, ad esempio piazze, parchi, trasporti pubblici locali, ospedali e tanti altri luoghi. Se arrivi tra i primi riceverai un voucher da 15.000 euro destinato a coprire le spese per le infrastrutture e l'installazione degli hotspot Wi-Fi per offrire una connessione libera e di alta qualità. Ai comuni spetterà l'impegno a pagare per almeno 3 anni i costi per la connessione internet e il mantenimento dell'infrastruttura. Semplice no? Partecipa al Bando Europeo Wi-Fi for You E ricordati, più sei veloce a partecipare, più hai possibilità di ricevere il voucher da 15.000 euro. Il 15 maggio alle ore 13 non perdere l'occasione. Cambia il tuo comune!